Emozioni forti nella domenica della Vitrifrigo Arena, dove transitava la corazzata Armani Milano, dove l'astronave ha onorato la memoria di Marco Piccoli, pioniere del movimento ultra bianco-rosso e primo amico della VL, come ha voluto ricordare la società che ha omaggiato la scomparsa 59 anni del fondatore dell'Inferno Bianco-Rosso. Soprattutto l'ha ricordata una tifuseria unita in cori applausi e striscioni per Marco, a 24 ore dall'ultimo saluto nella chiesa di Villa San Martino. È stato l'emozionato prologo di una partita che la VL ha combattuto ad armi pari per un tempo, salvo cedere in un terzo quarto di break importante della squadra di Messina, che lì ha preso il largo, dominando soprattutto a rimbalzo, fino al 71-85 finale. Repesi ha fatto i complimenti alla forza di Milano, non nascondendo l'amarezza di una convinzione e di una determinazione non all'altezza di altre giornate. Abbiamo avuto qualche pezzo dentro la squadra stasera che onestamente non ci è creduto, non ci è stato convinto, questa è la cosa base, cosa psicologica, perché dopo quando c'è questo si mette intensità, si mette coesione e connessione in difesa e si parte da là. Noi non siamo purtroppo riusciti a partire. Nel calcio, periodo complicatissimo per la Vispesero, che Albenelli ha perso sabato 2-0 col Siena in virtù delle reti di Paloschi e Riccardi nel primo quarto d'ora di secondo tempo. È una Vis avviluppata in problemi strutturali e di costruzione di gioco che si traducono nella quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e soprattutto in cinque partite consecutive senza gol. Un problema realizzativo che si cerca di risolvere tornando sul mercato e puntando sull'arrivo del 31enne Manuel Pucciarelli, attaccante ex Serie A con Empoli e Chievo, reduce da un'esperienza in Australia. Sconfitta dolorosa anche per il Fano, che perde terreno in alta classifica, cadendo 1-0 in casa del Matese nel campionato di Serie D. Nel calcio 5 voleva la vittoria a tutti i costi l'Ital Service ma ha rimediato un 2-2 con Real San Giuseppe nelle venerdì del Palafiera. Ital Service ha messo in campo tanta abnegazione alla quale non è seguita altrettanta concretezza. Così Pesero fugge due volte con i gol di Chito e la João Miguel, ma per due volte viene raggiunta sul pari dal Real San Giuseppe fino al pareggio finale. Trova invece continuità di vittoria la Megabox Vallefoglia che dopo aver vinto 3-0 a Pinerolo, trascinata da Koscileva, batte per 3-0 anche Busto Arsizio al Palacarneroli di Urbino.